Signore e signori, Maria Rosa Racenni 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 Lì da luce sopra un palo, nasca classe, nasca mano, come un firma di charlotte, di charlotte. Grazie, grazie. Il prossimo pezzo lo dedico a tutti voi qui presenti. Si chiama, non lo so, quale c'è per seconda? Mente e cuore. Il prossimo pezzo. 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 Il prossimo pezzo.